19 anni fa moriva per mano della mafia. Palermo ricorda, padre Pino Puglisi, il parroco che da brancaccio si schierò contro Cosa Nostra. Una data, il 15 settembre, è diventata uno spartiacco anche per i fedeli siciliani. A partire dal 1994 segna infatti l'apertura dell'anno pastorale della diocesi di Palermo. Diverse le iniziative di commemorazione come ad esempio il corteo partito dal piazzale antistante, il policlinico, centinaia le persone presenti. Lo ricordiamo per la quotidianità, lui ci assiste sempre, lo puoi vedere attraverso i giovani che oggi hanno fatto quell'arcobaleno che in qualche modo ci fa capire che il peggio è passato. Lui diceva sempre a tutti noi e se ognuno fa qualcosa le cose possono cambiare. Ecco adesso questo ognuno fa qualcosa sono diventate tante cose, tante iniziative belle in ricordo e in memoria di lui. Nel pomeriggio celebrata una messa in cattedrale dal cardinale Paolo Romeo, arcivescovo di Palermo, insieme a monsignor Luciano Giovannetti, vescovo emerito di Fiesole e presidente della fondazione Giovanni Paolo II, che ha collaborato alle iniziative in programma quest'anno a premere il grilletto contro padre Pugliesi, il killer Salvatore Grigoli, ora pentito su ordine dei fratelli Graviano, boss del quartiere Brancaccio. Quell'omicidio fu compiuto in odio alla fede, come hanno attestato i teologi della Congregazione delle Cause dei Santi e per questo padre Pugliesi è stato proclamato beato dal Papa lo scorso 28 giugno.